Si parla di mercoledì Benvenuti in Kiwi Benvenuti ragazzi Shogari Benvenuti e bentornati Benvenuti ragazzi Nella mia grotta Come potete vedere di Kiwi Perché? Perché sono finiti i video Del Lucca Comics Oh anzi anzi ragazzi Come ultimissimo video di Lucca Comics Andatevi a ripescare L'intervista Che è stata fatta A Tim Burton ragazzi Quindi ho visto Tim Burton Dal vivo e ovviamente anche All'anteprima Di mercoledì dove vi andrò a parlare E spoilerare Oggi in questo video Quindi ragazzi ecco perché mi vedete con ste trecce Di mercoledì Per la gentile concessione Di Netflix che ha dato A quelli che sono andati a vedere La prima ma Non perdiamoci troppo In chiacchiere ragazzi Oggi puntata Da dieci minuti Dove vi spoilerò Tutte le prime due puntate Quello che Che è quello che succede Diciamo Dai Ma prima di iniziare ragazzi Ricordatevi Come al solito Di Iscrivervi al canale Attivare la campanella Mettere la commentata Tutte le cose che dovete fare Sempre Dai e sci Dai Che oggi vi spoilerò Tutto diciamo Allora Diciamo che La puntata La prima puntata Inizia proprio Col botto Perché fa vedere proprio Che il fratello Di mercoledì Viene bullizzato Perché evidentemente Non è tanto cattivo Quanto la sorella Viene bullizzato Buttato nell'armadietto Quindi la sorella Per vendicarsi Va da quelli Che l'hanno bullizzato L'hanno buttato Nell'armadietto Che fanno nuoto Fanno una squadra di nuoto Di questa scuola Di questo liceo Va nella piscina Mentre fanno gli allenamenti E gli butta due belle sacche Di 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 piragna Dove gli vanno a mangiare Tutti i sberebembi E quelli che Diciamo Che c'è stanno Nella piscina Quindi di conseguenza Viene Cacciata Per l'ennesima volta Da una scuola E va in questa scuola Di supereroi No Non è una scuola Di supereroi Ma quasi Ci sta Ci sta Perché è molto Alla X-Man Diciamo Dove Fa la conoscenza Della sua compagna Di classe Che a mio avviso Può essere anche La figlia Della direttrice Che ci assomigliano Un po' Ci assomiglia Però vabbè Questo lo vedremo Più avanti Lo vedremo Insomma Questa qua Fa la conoscenza D'esta tipa Che è una Un'alicantropa Che gli escono Gli artigli Così tipo Gli artigli Tutti colorati Gli escono E quindi Fa la conoscenza Di questa E vanno Ma all'inizio Non vanno D'accordo Ma poi Iniziano Ad andare D'accordo E a Collaborare Perché Mercoledì Assiste All'uccisione Di uno Dei suoi Compagni Di classe Che è un po' Complessato Diciamo È un po' Complessato Cioè perché Prima di questa cosa Mercoledì Cioè viene 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 Cioè nel futuro Qualche Qualche cosa Più avanti Vede Che questo qua Che l'ha salvata Da 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 Gargoyle Viene Viene Ucciso Viene Ucciso Da Un Goblin Da Un Goblin Viene Ucciso E Quindi Dice C'è stato C'è stato Un omicidio Di sto Compagno De classe Che era Era Così Diciamo E Nella puntata Dopo Però Si vede Che sto Tipo È Ancora Vivo E Quindi C'è Possibile L'ho Visto Che è Morto Davanti Agli Occhi Mia Come Cazzo È Possibile Che Vivo È Vivo Noi Quindi Nessuno Gli Crede Però Tranne Il poliziotto Che è Già Assistito A Varie Altri Omicidi Della Zona De Stogoso Quindi Ufficialmente Quel poliziotto Dice Che è Un Orso Per Non Dire Che è Un Grisli Un 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 Mostro Per Non Dire Che è Un Mostro Dicono Che è Un Orso Perché Ovviamente Chi Cazzo C'è Che Può Sè Un Mostro Un Mostro Nel Bosco E Quindi Nessuno Gli Crede A Sta Mercoledì Qui Inizia A Fare Un Po La Detective Inizia A Fare La Detectiv Fino A Quando Che La Compagna Gli Va A Rompe Pala Di Ma Mi Dai Una Mano Perché Ma Fa Sta Gara De Canoa E Quindi Ci Serve La Mano Tua Perché La Compagna Mia Gli È Venuta A Dissenteria Gli Venuta Gli Mano Che Va Girando Gli Da Una Mano Gli Da La Mano Gli Da Una Mano A Mercoledì Ok Ma Non Ho Capito Insomma E Fa Sta Cosa Di Canoa E Quindi Ovviamente Che Può Essere Che Può Ovviamente Va Se De Cano Mano Butta Aragnate La Da Sotto A Canoa All'Aquaman Perché Sta Pure Aquaman Butta Aragnate Ad Aquaman Che Fa Gli Squarcia Tutta La Cosa E Quindi Alla Fine De Conti La Canoa Di Mercoledì Da Compagna Sua Vincono Vincono La Coppa Cobram Vincono Che Alla Fine Quella Ovviamente Quella Che Doveva Vince Che Era Sempre Vince Va Sempre Che Cioè I Superpoteri Da Sirena Quindi Controlla Tutte Le Ovviamente L'assassino Monstro Grizzly Quello Che È Ancora Vaga Nelle Campagne E Mercoledì Dice Io Qua Sta Cosa Non Ce Vedo Chiaro Me Stanno A Pia Me Stanno A Coglionà Non Me Stanno A Sul Serio Me Stanno A Pia Alla Cogliona E Quindi Non Ce Vedo Chiaro Inizia Ancora A Indagare A Vedere Chi Cazzo Che Che Fa Steste Cose Qua Anche Se Si Vede Che Quello Che Vero Ucciso Anacerta Inizia A Cambiare Volto Tipo Un Mutaforma Tipo Che Cambia Forma Non Lo So Quindi A So Punto Non Si Sa Chi Può Essere L'originale Se Il Ragazzetto L'uomo Che Apparso Oppure La Direttrice Può Essere Un Mutaforma Non Si Sa Quindi Queste Sono Le Prime Due Puntate Ragazzi Io Do Un Voto A Queste Due Puntate Da Uno A Dieci Diamogli Un Bel Sette Dai Un Bel Sette Perché Te Tiene Col Fiato Su Spons Diciamo E Non E Non È Molto Scontato Oddio È Scontato Per Vabbè Quindi C'ha Tutte Le Alla Fine Dalla Serie Si Vede Che È Più Potente Di Gold Drake E Quindi Vabbè Quindi Voto Da Una A Dieci Sette Quindi Diciamo Tim Burton Ci ha messo Ci ha messo Bene Tim Burton È che È l'ultimo Uscito Quindi Ci piace Ci piace E quindi Scrivete qua sotto Nei commenti Ragazzi Se volete Anche Che vi Spoilerò Tutta la Terza E Quarta Puntata Fino ad arrivare A 8 Credo Che Siano 8 Puntate Quindi Man mano Ve Spoilerò Tutte Mi raccomando Ragazzi Andate a Vedere La Serie Perché Questi Fermi Immagini È Il Massimo Che Potevo Fare E Quindi Noi Invece Ci vediamo Ragazzi A Un Prossimo Video Di Lunedì Dove Vi Parlerò Dei Pokémon Violetto E Scarlato C'è Un Po Di Chichette Da Raccontarvi Mi Chichette 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 Chichette